L'ite tra fidanzati, un giovane si intromette, ne nasce una rissa con due feriti, i carabinieri risalgono ai presunti responsabili e denunciano sei giovani. Secondo quanto riportato in una nota, subito dopo il parapiglia, verificatosi intorno alle 2.30 di domenica notte in piazza Sant'Agostino, i militari dell'arma hanno iniziato le indagini per capire come era andata la colluttazione che aveva portato al ferimento dei due giovani. Al termine degli accertamenti proseguiti durante la settimana sono sei le persone denunciate per ris e lesioni personali. Si tratta di tre uomini di nazionalità tunisina, di un rumeno e di due italiani, tutti residenti ad Arezzo, di età compresa tra i 18 e i 34 anni. L'episodio violento sarebbe scaturito a seguito dell'intromissione del ragazzo più giovane in una discussione tra due fidanzati. Una parola di troppo che ha portato ad una prima aggressione fisica, poi rivendicata da parte di un ragazzo tunisino, insieme a due suoi connazionali contro il 22enne italiano, sostenuto da altri due appartenenti alla sua comitiva. Dalla ricostruzione dei fatti si è chiarito come la rissa si sia verificata nell'area antistante alla scalinata che conduce all'informa giovani e che solo grazie alle testimonianze degli astanti si sia arrivati all'identificazione dei giovani coinvolti, in quanto nessuna denuncia formale ad oggi è stata mai presentata, scrivono i carabinieri presso un comando dell'arma. Tutti i ragazzi denunciati sono noti alle forze dell'ordine, uno in particolare per essere stato coinvolto nella vicenda della banda che terrorizzava le persone in centro un anno fa.